Ed ora il punto di Achille Coppo, la Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli. Il Governo Monti con il decreto sviluppo ha emanato norme tese a eliminare le criticità collegate alla fase iniziale delle procedure di risanamento delle imprese in crisi. Norme rilevantissime che vanno nella direzione auspicata. In primo luogo è stato previsto la possibilità di presentare il concordato con la cosiddetta riserva. Sul modello statunitense gli imprenditori possono richiedere, avendo immediatamente gli effetti protettivi, di accedere alla procedura di concordato integrando tutta la documentazione nei 180 giorni successivi. In secondo luogo è stato previsto il cosiddetto concordato con continuità aziendale, una vera rivoluzione dove in sostanza viene prevista la possibilità di conferire l'azienda e i rami di azienda in neunco o società preesistenti. Ma soprattutto vengono dichiarate nulle le norme che consentono la risoluzione dei contratti in corso ed addirittura viene consentita a determinate condizioni la partecipazione agli appalti pubblici. L'altra norma rilevante è quella della finanza a ponte, così gli imprenditori potranno accedere a finanziamenti anche nella fase dello stato di crisi. L'ultima è quella che consentirà il pagamento anche ai creditori anteriori. Condizione indispensabile è l'attestazione di un professionista qualificato e soprattutto indipendente cui il Tribunale si rivolgerà per avere il parere sulle citate operazioni.